Non possiamo dimenticare, perché io quello che ho detto a qualche amico, fine anno, tra Natale e Capodanno, ma anche com'anno nuovo, come ha visto gli ultimi due risultati, sia pre-natalizia sia pre-fine anno, tu sei contento? Io dico, sono contento perché per noi già una grande vittoria, e dicevo stamattina a Davide, la prima partita. Perché equivale per noi veramente a un play-out è aver vinto il contenzioso, chiaro a tutti, cioè molti pensano che la cosa sia a passare, ma è vero che non c'erano prove, non c'erano prove tizie dove se vogliono il giallo diventa rosso e il rosso diventa giallo. Era solo ed esclusivamente una guerra a due, non era solo ed esclusivamente una guerra da una parte alle due squadre di calcio, e dall'altra parte la procura, ma c'era una guerra, due squadre di calcio che dovevano difendere, anche squadre che steravano in una nostra, e minavano il campo. Vi ho già raccontato, forse a qualcuno di voi, le squadre di Serie B, che erano interessate contro l'Avellino, e capite bene che gli interessi in gioco non sono solo cadazzare l'Avellino e procura, ma è stato in un termine di dai piedi una società che stava per nascere, grossa, serie, che se non oggi, domani, dopo domani può dare fastidio. Buttarsi a mare l'Avellino forse interesse ancora maggiori, perché noi oggi siamo in Serie C, ma l'Avellino è in Serie B, e quindi potremmo pensare a mantenere la categoria, la Serie B è una categoria appetibile, perché tutto sommato ci sono finanziamenti, autogestibile, e quindi capite bene che facciamo anche la partita di Vitora, come anno che iniziamo, non che pareggiamo, perché potrebbe esserci anche che rimangono gli atti indietro, e quindi si dovrà rispondere un'altra partita d'andata. Quindi abbiamo in alto l'ultima partita, con le notizie relative a colori che, vedete, sono quelli sociali. La ventunesima giornata, con tutto il calendario, tutte le partite, sempre con lo scrolling, molto velocemente, ci posizioniamo in quella che è la classifica. C'è segnato tutto quello che devono fare, dalla carta intestata, ai bigliettini della visita, alle maglie, al merchandising, stiamo lavorando per prodotti...